Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video, questa volta King Gamer e oggi vi farò vedere come creiamo un mondo, lo faccio direttamente con il mondo, perché se non viene più facile. Stere, portaglia, stere, beh, fatta, ragazzi vediamo qui al mondo, un mag, è successo un bug, non ci credo, mentre che sto registrando, mentre che registro succede un bug, cos'è? Boh, vabbè, ricreiamo un altro, perché così è brutto, nuovo, è andato, se no? Ok, ora ci siamo, però l'unica cosa è che non l'ho messo sopra niente, Ok, guarda ragazzi, ora giocheremo, e non andiamo qua, qua, se sapevate questo trucco che se scrivi steve tutto piccolo, e vi spunta un mondo, Se non lo sapevate, scrivete qui sotto, in descrizione, non sapevo, e se trovate altre cose, scrivetele. Vabbè, vabbè, ora ci sceglieremo quale casa, scegliere, io penso che sceglierò questa, visto? Sceglierò questa. Sceglierò questa, togliamo questa, ok, ci faremo una crafting table, ma non c'è bisogno che la faccio, perché guardate bene, attenzione, qui c'è una crafting table, raga, noi ci faremo due bauli, poi questa qui la prendiamo, ok, e andiamo a casa. Ok, qui ci sono due bauli, qui mettiamo la crafting table, poi penso che vi porterò, oppure, delle bedwars, skywars, però no, ora, ma molto più in là. Noi ci prendiamo una forna, ce ne facciamo tre, così trovo molte cose, le guascio. E vabbè, questo video durerà un 6 minuti, ah, e vi ricordo, anche se tipo sto facendo una cosa e si stoppa il video, non vi preoccupate che poi lo continuerò in un altro video. Ehm, vabbè, raga, facciamoci un gessoio, che cazzo serve, scusate la parola, comunque, ehm, facciamoci le stecche, ci facciamo un piccone di pietra, ehm, una spada, facciamo due, ehm, e ci facciamo un'asciaio. Ok, ora andiamo in cerca di caverne. Intanto io faccio sempre così, per trovare delle cose, faccio, guardate come faccio. Comunque, raga, prendetevi il piccone, e infatti così, così almeno, lo abbasserà, ma credi, sì, poi c'è anche l'abbè, visto, già della chiave che abbiamo trovato, buono. Trovando chiave, ehi, avete visto, raga, abbiamo trovato subito del carbone. Se non sapevate sto trucco, ehm, ma non è un trucco, è una specie di... una specie di cosa che ti fa cosannare subito le cose. Io lo uso sempre quando creo i mondi, ehm, di solito si trova sempre il carbone, e poi ho trovato l'oro, il ferro, il diamante, l'apislazzoli e tante altre cose. Guarda quando lo sto trovando di carbone. Vabbè, raga, così basta. Mi dovete ricordare sempre il buco e continuare. Ok, raga. Mamma mia, raga, siamo dei mostri. Siamo, certamente, mostri. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, e... Poi io su questo mondo farò la porca troia. E ora, raga? Io lo sapevo, io lo sapevo. Trovo, no. Trovavo. Qualcosa, raga, no. Non ci credo. C'è, ma poi guardate quanto è grande. Guardate. Vedete, vedete. Io sto qua, rispetta, però... Cozioni di fuoco a zero, che domanda forza. Abbiamo delle dolce, ed è buono. Ok. L'ava. Mmm. Questa grotta mi interessa. Però porca vacca, fai piano, Yuri. Sì. Ehm. Ehm... Mo... Ora si spegne alla lava. Aspettiamo che si spegne. Ok. Mo... vabbè ragazzi sto avendo il grande e poi ci andremo quest'ora ritorniamo a casa intanto la costruzione ci interessa perché ancora siamo iniziati ora e vabbè vabbè ragazzi guardate un po' ora il problema è come farò a fare lì su faccio allora là è il buco dove sono caduto lì ok quindi io prenderò il ferro ok prenderò il ferro e risarmi della terra scusate raga se registro male però perché ancora è l'inizio ah il buco è qua ok ora risaliremo ci ricorderemo di questo buco ok qui lascerò un cancello anzi no anzi mettiamo il cancello così ricordiamo che qui c'è una grotta vabbè ragazzi ora andremo a casa farò delle spate farò delle spate 5 5 e 5 vabbè ragazzi diciamo che per questo video è tutto ci vedremo in un altro video ciao buona visione grazie a tutti